fare pronostici a fuori luogo tu hai detto sarà l'unica cosa certa un derby molto equilibrato e combattuto si sarà equilibrato e combattuto e come ho detto prima bisogna non è non conta il bel gioco ma bisogna vincere mi ha detto però in settimana da un punto di vista tecnico che sotto il tabellone si potrebbe fare la differenza sì loro sono recanati più esperta quando l'abbiamo affrontata noi non non aveva mai l'oson e che è un ottimo giocatore per la categoria quindi il nostro pace dovrà fare gli straordinari per cercare di imitarlo quanta voglia di riscatto avete tanta tanta perché non immaginavamo di partire con 0 2 quindi dobbiamo per forza di cose cercare di sbloccare prima possibile questa classifica